La colonna è imponente, così come le misure di sicurezza, l'aria è interdetta e i mezzi dell'esercito vengono scortati. Non c'è pericolo per le persone, meglio però stare in sicurezza. Si trasportano ordini esplosivi, una minima parte delle migliaia di bombe presenti nelle acque del porto di Molfetta. La bonifica va avanti dal 2009, provvede lo sdai della marina militare, sott'acqua ci sono residuati dalla seconda guerra mondiale. L'adriatico era considerato all'epoca una vera e propria santa barbara anche da parte degli alleati che lasciavano qui gli ordini non utilizzati. Siamo neanche a metà delle operazioni, le attività proseguono nonostante l'aria sia sottoposta a sequestro nell'ambito dell'inchiesta sui lavori del porto, avviati secondo l'accusa nonostante la presenza delle bombe, la maggior parte al fosforo. Quando si raggiunge un numero congro di ordini, gli ordini sempre dallo sdai vengono spiaggiati e portati in superficie. A questo punto la responsabilità passa all'esercito nella fattispecie all'undicesimo reggimento genio guastatori che ripone dentro delle casse di legno rivestite di stagno e vengono appunto ricoperte con della sabbia. Questo al fine di evitare il contatto del fosforo con l'aria, cioè con l'ossigeno e quindi praticamente evitare che prendano fuoco. Una volta che vengono appunto sistemate dentro queste casse zincate vengono poi trasportate in cava dove vengono poi fatte brillare.